Io tante volte sono morto, però c'è avuto la forza dei risorgi, per mille motivi, mille morti c'ho avuto io diversi. Io non sento il dolore, perché tanto io il dolore l'ho provato. Sai tante volte succede la discussione, io ti ammazzo, io le faccio, io sono già morto, io dico, io già sono morto. Queste sono le alli dell'angelo, il ricordo della mia figlia che ho perso, quindi rappresenta Stangioletto. Tutti in abita hanno momenti belli e momenti brutti, e se i momenti brutti tanto è che io dico che ce l'ho. Tanti altri invece fanno finta che sono bravi sempre. Soprattutto se stai per strada c'è buone le palle, se stai a casa tua tranquillo davanti alla playstation non c'è buone niente. Le palle che sta a mezzo della strada, ecco. E per i piatti quando vai giù, quando vai giù e non c'è un cazzo, li tira su, c'è solo la forza tua, il coraggio tuo. Grazie.